Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. 30 giorni di prognosi alla segretaria dell'accettazione, 7 al medico radiologo e una denuncia per lesioni personali. Pomeriggio di straordinaria follia all'ospedale di Civitanova Marche, dove si è consumata una vera e propria aggressione ai danni del personale in servizio. E' accaduto tutto intorno alle 17.30 di mercoledì, quando un paziente si è presentato alla reception del reparto di radiologia per ritirare un referto. A quel punto l'impiegata gli ha spiegato che per poter ottenere la documentazione avrebbe dovuto pagare il ticket, così come prevede la procedura standard. Apriti cielo. Dopo una prima protesta, l'uomo si è allontanato dalla holla per poi tornare sui suoi passi ed entrare come una furia all'interno della segreteria dell'accettazione. Dalle parole si è passati ai fatti. La donna è stata scaraventata con forza a terra e nella caduta ha riportato fratture al costato. In suo soccorso, sentito il parapiglia, è intervenuto un medico radiologo e l'uomo si è scagliato anche contro di lui, mettendogli le mani addosso. Nel frattempo il personale aveva allertato la polizia. Una volante è arrivata dal commissariato e una volta giunti in ospedale, gli agenti hanno fermato e identificato l'autore dell'aggressione, che è stato infine denunciato. Il tema della sicurezza nel presidio ospedaliero torna così in primo piano. Proprio la scorsa settimana, per evitare episodi simili, era stato annunciato un presidio di forze dell'ordine all'interno del nosocomio civitanovese, con turni alternati di mezza giornata, servizio che va ad aggiungersi alle due guardie giurate, già al lavoro durante la notte.